Adesso è Ferrarozzo, il suo tentativo da fare punti! Il suo tentativo di Ferrarotto che vuole sfruttare il mismatch, va fino in fondo, subisce pallo e segna anche il canestro Alessio Ferrarotto. Di lui lo brucia Ferrarotto con una finta, Milojevic ancora lo sta cercando. So let me in, in my heart, my soul, let me in, oh, your love explodes, our hearts implores, your love explodes, our hearts implores, our hearts implore. So let me in, in my heart, my soul, let me in, oh, my soul, let me in, oh, my soul, let me in, oh, my soul. So let me in, oh, my soul, let me in, oh, my soul. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti